Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Bellucci di Agliana dove per la settima giornata del girone d'andata, del girone B di eccellenza, si gioca l'interessantissima sfida fra Aglianese e Sestese. Sette mesi di tempo per riprendersi, dato subito una conclusione che non fa che confermare il 4-3-3-8, buon cross di De Gori sul primo palo, non ci arriva Marzielli, mette fuori i cappelli, poi la conclusione di Fioravanti. Dopo il bell'inizio della partita, cross raso terra del Signo, mette fuori Zuccarelli, copo di testa di Dini per Tomberli, attenzione aggancia bene Tomberli, poi prova la girata, intanto punizione però per la formazione signese, Ortega coppola Ortega, il mancino è buono sul secondo palo dove arriva proprio Tomberli, di testa mette alto, adesso in campo in maniera direi perfetta da Antonio Arcadio, perde il pallone Ortega, attenzione Marzielli prova il tiro da lontano, la conclusione costringe al tuffo Cappelli. L'altezza del 33esimo minuto di gioco. Coraglianese lancio lungo verso Tomberli che prova il copo di testa anticipato da Biondice, però Gambineri che prova la conclusione da fuori e il pallone che finisce in rete, attenzione, Signo in vantaggio al 33esimo minuto di gioco. Gambineri col destro ha fatto fuori fedele, ingannato dal rimbalzo del pallone e Signo che si porta in vantaggio con sorpresa ma meritatamente direi perché ha sicuramente giocato una buona partita finora alla formazione di Antonio Arcadio. Al silenzio proprio dalla formazione Signese, intanto recupera un buon pallone Marzielli, il cross proprio per Degori, coppo di testa e la parata di Cappelli sotto la traversa, pallone non angolato ma sicuramente complicato. Palla che spiova, ancora in area di rigore, meste fuori da Coppola. Palla ancora in area di rigore, arriva Zuccarelli, ancora la parata di Cappelli. Un rinomato buon pomeriggio dallo stadio Bellucci di Agliana dove si sta giocando per la settima giornata del girone B di eccellenza, il match è fra Aglianese e Signo 1-0. I propri giocatori per qualsiasi necessità, ricordiamo poi che da quest'anno in Lega Pro e nei direttanti si possono fare 5 cambi e non più 3. Attenzione a Marzielli che va via sulla fascia destra, entra in area di rigore, Marzielli prova la conclusione, anzi un tiro per Degori che va a rincorrere il pallone, lo tiene ancora in possesso del pallone. Poi serve Zuccarelli che può calciare, attenzione a Zuccarelli, l'uscita di Cappelli a palla ancora buona. Azione insistita con Raimondo, il controllo e il cross sul secondo riparo dove c'è Degori e pulisce Strupeni ma può scattare sulla fascia sinistra. Edoardo Marzielli prova a fare tutto da solo, Marzielli palla sul sinistro e il pallone sul fondo. Protagonista con il tocco per Maccagnola, arriva al volo Duccio Fioravanti su destro che va sul fondo. Duettano bene i due giocatori, ex Lanciotto, ancora Coppola sulla fascia sinistra, si porta il pallone sul destro e il cross è buono per Tomberli! La parata di Federe Miracolosa! Il pallone che spiove sul secondo palo, c'è Guarisa di testa, rimette il pallone dentro, fuori Bartolozzi, poi il tiro di Degori. Una mischia al sinistro di Zuccarelli, ancora in calcio d'angolo. Ancora Gambineri, pallone sul destro, prova la conclusione dentro per Bartolozzi, viene trattenuto probabilmente da 13. È stato un reclamo da parte del Signa, con Bartolozzi che si lamenta in maniera abbastanza vehemente per questa potenziale possibile trattenuta da parte di 13. Alza la testa e il terzino destro dell'Aglianese, poi prova a lungo linea verso Degori, che aggancia bene il pallone, va a dettare il passaggio Guarisa, che prova a metterci tutta la propria velocità. Attenzione a Guarisa che entra in area, palla per Marzierli, non riesce a deviazione, il pallone che sfila sul fondo. Chiede il calcio di rigore l'Aglianese su questa azione per una spinta, probabilmente ai danni proprio di Marzierli. Maglianese vicinissima al gol del pareggio. Nero di centrocampista centrale al posto di Duccio Fioravanti che è uscito, palla dentro per Guarisa, il pallone è buono, il cross di Guarisa sul secondo palo, Marzierli il palo, ancora Marzierli e la rete! La rete di Edoardo Marzierli al 43esimo minuto di gioco della ripresa, sempre lui, sempre Edoardo Marzierli, segna sempre lui, il centravanti nero-verde e lui a togliere le castagne dal fuoco alla formazione aglianese. Gambineri decisivo per il gol, per quanto riguarda l'Aglianese, oltre ovviamente al solito, grande Edoardo Marzierli che fa anche il reparto da solo. In realtà la palla è buona, attenzione per Vezzosi perché la partita non è finita, Vezzosi prova ad entrare in area di rigore, il tiro di Vezzosi e la palla è in rete! La palla è in rete di Vezzosi al 48esimo minuto di gioco della ripresa, il clamoroso vantaggio del signa al 48esimo, incredibile vantaggio di Vezzosi che ha beffato Giona Fedele al 48esimo minuto di gioco. Punizione battuta da De Gori, palla che spiova a centro area, viene colpita da un giocatore, poi la rovesciata, tentata da Cappelli, finisce sul fondo. E su questa direi che si conclude la partita, 52 minuti e 30 secondi sono bastati nella ripresa per questa splendida vittoria del signa.